Sono qui seduto come tra i banchi di scuola, voi state per iniziare una cosa che non si capisce subito ma dopo che l'hai fatta, cioè gli esami, rimane un bel sapore in bocca, quindi vi do in bocca al lupo a tutti gli studenti di scuola.net Volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno per fare la maturità, mi raccomando concentrati, qualsiasi cosa succeda sappiate che la vita è molto molto lunga, avete tanto davanti quindi mi raccomando un in bocca al lupo e soprattutto state su scuola.net Cari amici, ragazzi, sono passati tanti anni, circolavano i dinosauri quasi, quando io sedevo dietro i banchi della scuola e mi accingevo al fatidico giorno in cui sarebbe tracciata una linea e anche per il sottoscritto si sarebbe deciso che cosa fare da grande, cioè attraverso gli esami, è proprio per questa ragione che insomma provo giustamente un po' di solidarietà nei vostri confronti ma anche un pizzico di video, lasciatemelo dire, perché sono stati molto belli a rispetto delle ansie, dell'emozione, del nervosismo e anche del panico che probabilmente sta caratterizzando le vostre giornate per cui un grosso abbraccio da parte mia, un in bocca al lupo molto forte, che di ora ve la mandi buona, ciao! A tutti i ragazzi che quest'anno dovranno sostenere gli esami di maturità, veramente un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando continuate a seguire scuola.net perché potrà esservi di aiuto. Un bacio, ciao! Grandissimo bocca al lupo a tutti gli studenti di scuola.net, grandissimo per i maturati, tenete duro perché c'è un grande senso di liberazione quando uscite all'orale perché poi ci avete una delle più belle stati della vostra vita, tenete duro il bocca al lupo. Quello che posso dirvi sono due cose, sia da ex studente che ha vissuto questi fatemi e da attuale docente. Non studiate più perché non serve, vi confondete solo l'idea. Tutto quello che sapete è dentro di voi, un po' di coraggio, un po' di grinta sarà la ricetta che vi porterà al migliore dei risultati possibili. In bocca al lupo! Li salutiamo i ragazzi di scuola.net che è un sito molto attivo per quanto riguarda gli studenti e sono molto bravi. Vi siete presi i complimenti anche del Ministro.